Allora Matteo Balleri, tantissimi palloni recuperati, tantissimi chilometri su un campo veramente impossibile per giocare a pallone. Sì, un campo difficile si sapeva e niente, è stata dura, abbiamo portato a casa la vittoria, ora al ritorno sarà un'altra battaglia perché 2-1 sarà un gol di scarto, loro hanno fatto il gol fuori casa, sarà dura, però andiamo là per vincere come sempre. Ecco, come ti è sembrato questo merdo là? No, penso una buona squadra, nel primo tempo ci hanno messo un po' in difficoltà, anche se devo dire comunque ti rimporta, poi alla fine non hanno fatti tantissimi, penso 1-2. Buona squadra, noi però siamo passati sotto un vantaggio, siamo stati bravi ad andare sul 2-1, magari nel secondo tempo con un po' più di fortuna potevamo fare anche il terzo. Comunque niente, la partita laggiù sarà una partita equilibrata e sarà arti 90 minuti di guerra. Ecco, la mia è una curiosità, ma a fine partita sei stanco oppure no? Perché corri dal primo al 95esimo sempre a 100 all'ora? No, oggi penso il campo si è fatto sentire, sei da stanchi, comunque no dai, si sta bene, è normale che con questi campi si fa più fatica, come noi e loro uguali. Speriamo a merda sia un campo un po' meglio di questo. Ecco, cosa ti rimproveri di oggi, prima di aver chiuso forse la partita? Sì, forse sull'1-0 magari se si teneva un po' di più botta si poteva magari mantenere meglio 1-0 che 2-1. Però è normale, hanno trovato quel go, siamo stati bravi a fare il 2-1, se si riusciva a fare il terzo era meglio, se laggiù loro con l'1-0 passerebbero. Aspetta, è anche vero che la nostra squadra, tranne col Pietrasanta, poi all'andata può essere sempre segnato. Sì, infatti basta fare un golo e non siamo persi per ora, tocchiamoci tutti. Però dai, penso la squadra, loro sono una buona squadra, ma noi sappiamo il nostro valore, siamo forti. Andiamo laggiù a viso aperto e si vedrà.